Tre anticipi per la decima giornata di campionato, in testa vittorie per 3-0 di Conegliano contro Perugia e di Novara contro Vallefoglia. L'expload lo ha fatto invece Chieri che ha vinto in trasferta sul campo di Bergamo per 3-1. Elena Perinelli, capitana di una Chieri che ha sofferto un po' ma poi nei momenti opportuni è sempre venuta fuori. Sì, è stata una partita combattuta in cui siamo stati anche abbastanza in difficoltà, a parte l'ultimo set probabilmente. e sono contenta perché siamo riusciti a portare a casa tre punti che sono importanti anche per la Coppa Italia. Ecco, siete soddisfatte della posizione di classifica attuale? Sì, penso di sì perché a parte forse i tre punti con Vallefoglia che abbiamo perso, per il resto penso che abbiamo fatto un bel girone fino adesso. Elena, dopo un lungo infortunio stai finalmente rientrando, come ti senti? Sto bene, sto lavorando tanto e sono ancora un po'... devo ancora lavorare. Da un punto di vista anche fisico? Sì, però sono contenta, sto bene, anche solo rientrare e fare solo il giro dietro per me è importante. Le altre partite della domenica, Monza-Firenze, Trento-Bustarsizio, Casal Maggiore-Cuneo e Roma-Scandici.